amici all'ascolto buonasera eccoci dunque puntuale con la nostra trasmissione e questa sera purtroppo è il caso di dirlo patti è salita agli onori della cronaca nella famosa trasmissione striscia la notizia onore della cronaca purtroppo in negativo però il tutto ha lasciato quella trasmissione ha lasciato alquanto indignati sia il sindaco della città di patti ma anche il commissario straordinario della provincia regionale di messina filippo romano ecco innanzitutto abbiamo qui con noi il sindaco della città di patti mauro aguino e alla mia destra il neo assessore giovanni franchina iniziamo dunque con il signore città di patti ecco in un utile nasconderlo sindaco per chi non sa la verità soprattutto sui vari blog o network locale c'è stato veramente un massacro ecco puoi illustrarci qual è la situazione vera buonasera a tutti e grazie per l'opportunità che mi viene offerta di fare un po di sana informazione rispetto alle informazioni che ho definito da avanspettacolo di quel di quel servizio scaturito forse da informazioni errate che sono state fornite alla giornalista è un servizio infarcito di errori di sviste mi auguro fatte in in buona fede non c'è nessuna discarica nella riserva di marinello non c'è nessun rischio ambientale anzi la situazione è particolarmente gradevole particolarmente positiva se è vero come è vero che le centinaia di turisti che ogni giorno la visitano lasciano commenti entusiastici per la bellezza dei luoghi e la natura incontaminata ho scritto ho rilasciato delle dichiarazioni con le quali rappresentavo la mia indignazione e il mio stupore stiamo valutando darò un mandato ad un legale e su questo siamo sulla stessa linea con il dottor Romano con il commissario straordinario dare mandato un legale per valutare se ci siano i presupposti per intentare un'azione civile nei confronti di Mediaset e della trasmissione strisciala notizia per ottenere il ristoro dei danni d'immagine che alla vigilia di una stagione estiva che si preannuncia particolarmente positiva e particolarmente interessante quanto ai numeri e alle presenze è un danno, dicevo, particolarmente rilevante Sindaco, a pensare male a volte si indovina, diceva il grande Giulio Andreotti e beh, proprio in questo caso non si riesce a capire perché fare un servizio a due mesi di quello che effettivamente è successo qualcosa però farlo a due mesi di distanza nello stesso tempo usando immagini già passate e guarda caso proprio il primo giugno o due giugno non ricordo preciso proprio quando già incominciano ad arrivare i turisti ecco perché mi collega a quella frase a pensare male a volte a chi giova una cosa di questo genere un'altra cosa che intendo chiedere è se il Sindaco, come deve avvenire in un così in un dibattito televisivo un dibattito televisivo portato a questo servizio se sei stato avvisato Guardi, a chi giova non lo so è una legge del giornalismo e lei me lo insegna che l'audience delle notizie negative è sempre maggiore di quella delle notizie positive ma in questo caso credo che si sia davvero esagerato io non so da chi siano provenute le notizie errate fornite alla signora Petix circa costi di milioni di euro di cui non abbiamo contezza né il Comune di Patti né la ex provincia regionale l'unico dato certo di cui abbiamo contezza è che grazie alla positiva collaborazione tra la ex provincia e il Comune di Patti con l'istituzione di un ufficio che ha sede presso il Comune di Patti e che è deputato alla cura e alla gestione della riserva ogni giorno vengono smaltiti parecchi rifiuti speciali e non speciali che il mare porta all'interno della riserva non escludiamo che qualche maleducato possa lasciare il sacchetto di spazzatura ma la carcassa di Bovino o gli pneumatici ripresi in quel filmato datato come ha ben detto lei direttore sicuramente sono stati portati lì dal mare e peraltro prontamente rimossi e questo è tutto documentato credo che la signora Petix sia in corsa in un grave, gravissimo, gravissimo, gravissimo abbaglio quindi a chi giova non lo so mi consenta di evidenziare una cosa che so per certo però e che mi ha fatto particolarmente piacere e cioè che questo servizio che certamente ha determinato un gravissimo danno d'immagine per la città ha anche suscitato la reazione sdegnata di tantissimi cittadini che autonomamente, spontaneamente su Facebook condividendo fotografie o pensieri o postando comunque delle proprie riflessioni hanno evidenziato l'assoluta infondatezza di quel servizio ribadendo invece la straordinarietà di un luogo che è di patti ma è patrimonio dell'umanità e che vogliamo come comunità pattese rivendicare e promuovere nel migliore dei modi altra domandina così anche per cercare di fare ulteriore chiarezza se lei è stato avvisato di questa trasmissione no, no, non sono stato avvisato mi è stato comunicato qualche giorno dopo la presenza della signora Petix che appunto c'era una troupe di striscia la notizia ma non sono stato contattato come mi sarei aspettato né dalla signora Petix né dalla redazione di striscia la notizia avrei volentieri fornito i chiarimenti che si fossero resi necessari come ad esempio quelli relativi allo smaltimento della famosa carcassa del bovino e ancora una volta con le foto si è dimostrato ampiamente è successo il sabato santo ovvero in piena festività e quindi del 4 aprile e due giorni dopo è stata tolta quindi ad ulteriore testimonianza della tempestività dell'azione altro particolare ma che quella discarica quei rifiuti che hanno fatto vedere non appartenevano al territorio del comune di Patti ma è un comune vicinore e quindi ad ulteriore testimonianza che evidentemente quindi ripeto la domandina mandare quel servizio a distanza di due mesi proprio i primi giorni di giugno quando incominciano arrivare i turisti lascia un pochettino a pensare male come diceva a pensare male si fa peccato si fa peccato va bene risolta questa questione si fa per dire con la speranza nello stesso tempo come abbiamo fatto ieri con il servizio uscito oggi sul giornale Sicile abbiamo avvisato la redazione di Mediaset e di Striccia la notizia a voler fare una replica lo stesso facciamo oggi perché correttezza assoluta di un'informazione è quella di sentire entrambi i contendenti non è possibile dare una visione di una realtà solo sentendo una persona cambiamo argomento Giovanni Franchina è il nuovo assessore del comune di Patti ha subentrato al posto del dimissionario Enzo Rifici che cosa si provo oggi hai parlato nella conferenza stampa di una certa emozione intanto buonasera a tutti ringrazio il direttore per l'invito a questa alla trasmissione dire emozionato è poco perché sono veramente onorato di essere assessore di essere stato designato assessore in una città così importante la dettavia città della provincia di Messina e quindi dà anche un valore a me persona ma soprattutto a dare un contributo ancora più profiguo da quello dato da consigliere comunale mi dà anche una certa responsabilità e crea i presupposti per lavorare in maniera più incisiva e decisiva per la città Ecco in questo anno che manca praticamente prima delle prossime elezioni il sindaco oggi nella conferenza stampa ha illustrato che ci sono dei progetti alquanto importanti che si possono portare avanti ecco se già hai visione poi magari chiederemo anche a lui e se già sei pronto per entrare in competizione da buon organo di controllo quale consigliere comunale ho contezza dei progetti che c'erano in cantiere che l'assessore Orifici oggi ingegnere diciamo ho visto le dimissioni l'ingegnere Orifici ha portato avanti con passione e amore per la città e quindi ora quello che è il mio compito è quello di concretizzare al più presto tutto quello che era in cantiere ecco sindaco oggi nell'apposita conferenza stampa ha illustrato specialmente tre iniziative che sono pronte per essere e portate a compimento come quella dell'area Asi ecco vuol d'altro non vorrei che si è confusa l'APTX con i 4 milioni che sono quelle dell'area Asi questo non lo so il progetto a cui io facevo il riferimento è quello importantissimo per la nostra città che è il completamento delle opere di urbanizzazione dell'area Asi che consentirà di insediare in quell'area un numero importante di attività imprenditoriali che in un momento così delicato di congiuntura economica sfavorevole certamente creeranno posti di lavoro occupazione e quindi ricchezza questa è una delle cose sulla quali da subito chiederò a Giovanni di impegnarsi con tutte le sue energie perché il gran lavoro fatto da Enzo Rifici negli anni scorsi possa trovare finalizzazione nel più breve tempo possibile ecco sindaco se questa volta quando si è verificata questa sostituzione per la prima volta non ci sono polemiche ecco però ci sono alcune piccole contestazioni come per esempio quella che Giovanni ha rifiutato cioè non ha rifiutato è rimasto consigliere comunale avevo sbagliato io è rimasto consigliere comunale e l'altra è che praticamente iniziamo con questa che è rimasto consigliere comunale la legge consente di mantenere la doppia veste di assessore e consigliere comunale quindi è una facoltà riconosciuta all'assessore Giovanni Franchina che ritiene di voler mantenere il ruolo più squisitamente politico di consigliere comunale è una scelta che è stata discussa anche all'interno della coalizione e condivisa aggiungo io non solo dal sottoscritto ma anche dalla coalizione stessa qualora dovesse ritenere in un futuro più o meno prossimo che non riesce a mantenere il doppio ruolo di assessore e consigliere è chiaro che farà la scelta che gli sembrerà in quel momento più doverosa e più opportuna altra polemica che si riannuncia sarà qui alla sua bravura cercare di ridurla che due consiglieri comunali sembrano che siano in procinto di lasciare la coalizione e di approdare al gruppo misto questo lo vedremo nei prossimi giorni sì ci sono dei malumori all'interno della coalizione come probabilmente sempre accade quando ci sono scelte importanti e anche dolorose da operare malumori che credo rientrino nella normale dialettica politica e sono anzi il sale stesso della democrazia della logica del confronto e del ragionamento politico amministrativo mi auguro che questi malumori possano nel più breve tempo possibile rientrare che ci si possa presto chiarire incontrare e riprendere il discorso e le ragioni di una comune appartenenza che nascono nella condivisione di un progetto politico che è nato nel 2011 che non è mutato ma che anzi ha trovato nuove condivisioni lungo la strada quale ad esempio quella di Giovanni Franchine il suo compito si presenta abbastanza difficile ovvero cercare di fare meglio di Enzo Rifici che soprattutto per quanto riguarda il compostaggio e l'ambiente diciamolo francamente ha ottenuto dei buoni risultati sicuramente sarò ripetitivo il lavoro che ha fatto Enzo Rifici è un lavoro che darà i frutti più in là dal compostaggio sui rifiuti su tutto e io su quella falsarrica voglio continuare per portare a compimento proprio il lavoro da lui tracciato quindi ti senti fiducioso di poter dare effettivamente una buona mano d'aiuto alla compagina amministrativa del sindaco mi sento fiducioso soprattutto perché ho fiducia da tutta la giunta compreso il sindaco da tutta la coalizione sicuramente dal tutto il consiglio comunale che lavorando facendo gioco di squadra porteremo risultati positivi per la città ultima domanda viabilità della stazione turistica di Marina alcuni dicono che si sia passata alla fase 2 altro che non c'è niente di fase 1 né di fase 2 com'è effettivamente la situazione dell'isola pedonale e di conseguenza della viabilità a Marina direttore mi dà l'occasione di ribadire quello che ho più volte rappresentato anche dal microfono di questa emittente ogni cambiamento crea un po' di disorientamento tutti i cambiamenti vengono visti positivamente da alcuni meno positivamente da altri così come era stato ampiamente annunciato e dopo un ampio dibattito che abbiamo affrontato con i residenti con i soggetti istituzionali con gli operatori commerciali dell'area abbiamo detto in maniera molto chiara facciamo un esperimento una prova vediamo come va chiudiamo una delle due corsie per ridurre al minimo l'impatto sulla viabilità e vediamo cosa succede e questo è stato fatto chiudendo la corsia lato mare del parte centrale del lungomare Zuccarello abbiamo fatto le nostre verifiche non credo ci sia stato un impatto devastante sulla viabilità anzi ritengo che si sia data la possibilità a bambini famiglie semplici cittadini via turisti di godersi il lungomare in piena serenità esaurito quel momento quella fase 1 dell'esperimento siamo passati alla fase 2 chiudendo la corsia di monte anche qui vogliamo studiare l'impatto sulla viabilità studiare soprattutto cosa succede con la possibilità per i tanti locali di mettere tavoli e sedie davanti alle loro attività e quindi dare anche un'immagine più positiva più gioiosa e più dinamica del lungomare dopodiché ancora una volta con tutti i soggetti interessati ripeto soggetti istituzionali residenti operatori commerciali faremo una valutazione definitiva e decideremo cosa fare ma non è una valutazione ed un esperimento fine a se stesso ho sempre detto e ribadisco in questa occasione l'obiettivo di lungo termine dell'amministrazione è quello di dare un volto nuovo al lungomare di Patti Marina se ci sono le possibilità vogliamo pedonalizzare in via definitiva una parte almeno del lungomare questa osservazione serve appunto a capire se questo si può fare come deve essere fatto e soprattutto andrà fatto di pari passo con la realizzazione di nuovi parcheggi non mi pare direttore mi consenta un'ultima chiosa che per esempio in occasione di quel bellissimo pomeriggio del giorno della festa della Repubblica del 2 giugno nel quale abbiamo avuto diverse migliaia di presenze sul lungomare non mi pare dicevo che ci siano stati problemi di parcheggi di viabilità men che meno di ordine pubblico quindi vuol dire che l'esperimento va nella giusta direzione e siamo per questo molto felici e confortati della scelta che ribadisco crea sempre disorientamento e incredulità tra la gente ma poi alla fine ci si abitua e ci si rende conto che cambiare ogni tanto è necessario bene ringraziamo sia il sindaco della città di Patti Mauro Aquino che il neoassessore Giovanni Franchina nello stesso tempo concludiamo invitando per l'ennesima volta la redazione di Mediaset o di Sliccia la notizia di eventualmente fare qualche replica perché obiettivo portante lo ripeto ancora una volta di un dibattito di una trasmissione di un servizio di un servizio di un servizio è sentire sempre le due parti e come dice il sindaco che bisogna crederli non ci sono dubbi che non è stata avvisata di questa trasmissione sarebbe opportuno di chiedere umilmente scusa sia al sindaco che alla città di Patti perché il danno dell'immagine è stato enorme grazie per la cortesa attenzione e buon proseguimento con i programmi di Omnia News